La Sevel di nuovo a pieno regime. Domani mattina lo stabilimento di Atessa tornerà a produrre il furgone Ducato, dopo il via libera dalla procura di Lanciano. La produzione era stata notevolmente ridotta dopo la morte sul lavoro, ad inizio anno, di Cristian Terilli, operaio 29enne della provincia di Frosinone. Tornerà quindi in funzione la parte dell'impianto robotico, ma non quella del reparto Lastratura, dove è avvenuta la tragedia durante un lavoro di manutenzione per conto di Fiat Chrysler. E questo per consentire ai periti di ultimare i rilevamenti che hanno già portato sei dirigenti aziendali nel registro degli indagati. Tirano un sospiro di sollievo i 700 dipendenti fino ad oggi in cassa integrazione parziale. La produzione dello stabilimento era scesa da 1.250 veicoli al giorno a 900. Il rallentamento dei lavori pesava non solo sulla Sevel, ma su tutte le fabbriche dell'indotto FCA, dalla Val di Sangro a Sulmona, per un totale di 13.000 addetti. E mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità della morte di Terilli, un'altra tragedia sul lavoro scuote l'Abruzzo. Il 24 gennaio, a tocco d'Acasauria, Igor Pavel Meiser, di soli 26 anni, è morto precipitando da un'altezza di 12 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone della ex-merker. L'area è stata sequestrata. Indagati per omicidio colposo sono un ingegnere e il titolare dell'azienda che stava eseguendo i lavori di smantellamento dei capannoni. In Italia nel 2019 quasi mille persone sono morte nel tentativo di riportare a casa uno stipendio, almeno 950 per la precisione, per una media di 5 morti ogni due giorni. Il calcolo delle morti bianche è però difficile. Ci sono infatti i colori iscritti all'Inail, ma è complicato tenere conto anche di tutti i lavoratori in nero, spesso immigrati senza famiglie al seguito a chiedere giustizia, che in caso di morte sono così destinati all'oblio.